Allora, tu prima di tutto fatti che ti vuole No, il fumo elettrico Ho finta anche a me No, Cino Scusami Non volevo Eh, volevo Oh, scusa Ma sei Nero Magari No, a me mi fotte A me deve fottermi Io non lo colpisco ma lui deve fottermi Farsi i cazzi propri Oh no Stavo chiamando Il Titan, vatti i cazzi tu Sì, bucci su un'epica Bucci su un'epica Sì Eh, volevo Ma ti vuoi uccidere il Titan, vabbè, ma vaffanculo va Parti Perfetto Guardate, la mia persa è, ma io ho fatto una decisione, eh, e sono un gasacchio per questo E, saluti ragazzi, io sono Filippo e oggi siamo trovati su Titanfall 2 Allora, prima di tutto, ho scoperto come si fanno le uccisioni epiche, quindi... Magari in questo episodio facciamo le stragi epiche L'ho detto, alla fine non fermo niente, scommettete? L'ho detto Ma cerchiamo subito la partita di Logramente e noi ci rivediamo appena la trova Ciao Eccoci qua Sempre dopo i soliti tre anni di attesa Salve Frate, siamo solo a te Ciao, sei su YouTube Che zue? Arrivo Staccano Ah, questo l'ho fatto due video fa E mi ricordo che mi ero un po' Un gemmine Adichiararlo No, frate, ti seguo Ti seguirò la prossima volta, frate Andiamo Beh, sono carico Fa uccidere su te stesso E c'è chi l'azza? Trata, adesso con una granata C'è chi l'azza? C'è chi l'azza? C'è chi l'azza? C'è chi l'azza? No, c'è chi l'azza? No, c'è chi l'azza? Eh, lo faccio portare Allora, cazzo tu prima di tutto Fatti i cazzi fuori Perché io stavo uccidendo il tuo compagno Se non me ne frega niente E ci si debba fare Un gioco Ma che cazzo? Ma che cazzo? È uscito dalla porta, così È infame Oh, chi è l'infame ora? Magari che vuole? Ho prenduto il tuo compagno Oddio Se l'ho ucciso, se l'avevo ucciso io perché Bene, ci arano Ho fatto una partita prima di questo video Ci hanno arati Non è giornata, non dire Porca vacca Ci hanno il titan Gli strossi ci hanno un titan Non è che devi Agganciarmi Ma chi se ne frega di farci rintriciare No, il fumo elettrico Tu non me lo agganci Ah, lo volevi? Allora ragazzi, guerra con questo titan E anche i nostri ci hanno un titan E io sono contento No Ho finito anche a me No, ce l'ho Ragazzi, uccidetelo Uccidetelo Gli ho fatto una Gli ho fatto Ragazzi, io sapete come sono Il titan Alla morte Io A parte nell'ultimo video Però ho fatto Oh, coglione L'ho ucciso Non mi stavo tagliando Scusate, sono entrato con questo Lo so, sono un coglione Vieni, coso Grazie, tonno Ok, ucciso Avrei preferito fare un uccisione epica Vado, amico Mi ha fatto cagare il mano Mamma mamma Tu sparo tutti i titan alleati Non l'avete visto Cos'è? No, questo qua Questo qua è tutto È tutto doppato Questo è tutto doppato Questo è tutto doppato No, quello di Ciacle Ciacle o scudo Sì, vaffanculo Eh, non posso Ho ancora avuto la faga Ragazzi, lo sapevo Io volevo fare le uccisioni epiche Semmai me ne metto qualcuna Dai Ma dove sono tutti i ragazzi? Non li trovo Non li trovo mai Mi hanno fatto una questione Scusate di me Allora Io trovo tutti i titan Ops, scusami Ops, scusami Ops, scusami Non volevo Eh, volevo Oh, scusa Non ho fatto apposta Crenzi Sì? Piovono brandelli Oh, stronzi Entravo lì da fare Ok, ragazzi No No, giusto È un brutto colpo No, giusto Allora Dove morire Patti, si bella Poi Il cane L'ho visto Insomma Ma sei Nero Magari No A me mi fotte A me deve fottermi Io non lo colpisco Ma lui deve fottermi Allora Adriana Ancora tu? Lei entra nel taglio Oh, che mancava Mancava Non ci levo Ma ci sono troppi tagli Sì, dai Non c'è tanto di stacco Asso Dai, dai, ragazzi Dai Allora Non c'era scritto Che questo gioco Prevedeva jumpscare Quindi Non c'è giustificato Guarda, ho pensato Che fossero Dove la mini Dove la mini Aspetta Uno si è Eiettato Quindi Adesso Mi arrivi qua Farsi Cazzo Propri Una cosa Che dovrebbe essere Eeeh Normale Insomma No Questi qua Non lo sanno No Eh ma Amma mia Che razza di skin Che ha sto qua E' Quello skin Non mi piace Cazzo Io ho lo skin mimetico Per il tonno Per il tonno Di umano Sì e chiede Ok Ok E non lo becco Un circo Un circo Andato La pirota Nemici Allora Io Non Ma è quello Lì Che ho ucciso Quanto Cazzo Era Adesso Un po' Mi arriva Il tonno Ma L'ho Ucciso O cosa Raga Non si dice Niente Ragazzi Alano Ci alano Lui è qua E' qua Lui Mi sta in culo Donno Stavo Chiamando In cazzo Vatti Cazzo Tuo Ragazzi Mi fai incazzato C'è la roba Ragazzi Non fai incazzare Io ci gioco Cazzo Tondo 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 Rio mare Bene Grazie Tondo Rio mare Posso sempre Contare Sì No Volevo fargli L'uccisione Mi cazzo Tu Corri Vieni Grazie Cazzo Mi ha messo Meglio Di me No 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 Allora Si sta nominando Rocky Barbò Cosa Io Io Voglio Pannino Uccisione Epica Ragazzi Ragazzi L'ho fatta Ragazzi In video Allora Merita Non Tondo ta Cosa Tondo Cosa ha preferito farsi esplodere uno dell'Isis questa cosa mi si fanno soltare i titans però li aggiungo davanti lì li aggiungo un'altra uccisione, bastardo non sono messo ragazzi io sono riuscito a fare un'uccisione epica nel video quindi eh volevo ma ti può uccidere il titans? ma vaffanculo va abbiamo verso questa bandaglia consiglio di evacuare ragazzi ci hanno... ci hanno arati fanculo non erano ancora le pido suca suca ti ho trollato ti ho trollato a merda e io se ti trollo sto bene oh e va fanculo però proprio dove devo passare io ragazzi ragazzi io prendo una scorciatoria non pico la scorciatoria non mi ho preso nessuno allora io la trovo raga arriva la nave da evacuazione è arrivata vai è l'unica speranza di sopravvivere si ok io ci sono raga 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 muovive raga muovive raga attaccano parti perfetto frate la via persa eh ma io ho fatto un'uccisione epica sai che sono gasato per questo eh però vabbè ah ci sono proprio rimasti solo noi due in vita perfetto ok arriva terzo dai uno acquittato è finita la partita cosa acquitti allora vediamo cosa abbiamo fatto la partita completata buona questa azione grazie grande smr livello 8 tonna livello 9 ma ragazzi Winson Dynamics livello 3 ma che cosa stiamo pa- ascolta ma sei talmente tiri di uno potevi darvelo eh il livello e vabbè sapete allora sapete che c'è io penso di concludere qui questo video se il video vi è piaciuto eh lasciate un commento e un mi piace eh se scrivete su instagram film tv vi trovate eh se non siete ancora iscritti iscrivetevi e sempre se il video vi è piaciuto commentate condividete e noi ci rivediamo sempre qui con moi e alla prossima bella ragazzi